Onorevole Meloni, domani incontrerà il Presidente incaricato Draghi, è sempre decisa a non appoggiare il nuovo governo? Sì, sono sempre decisa a non appoggiare il nuovo governo e sono sempre decisa a fare un'opposizione patriottica, cioè ad aiutare Mario Draghi a fare cose buone se vorrà fare cose buone. Ed è la ragione per la quale oggi ad esempio ho mandato a nome di Fratelli d'Italia al Presidente incaricato una serie di documenti in vista del nostro incontro di domani, come mi ero impegnata a fare durante il nostro precedente incontro con le principali proposte di Fratelli d'Italia, per esempio in materia di sostegno al nostro tessuto produttivo, di lotta all'immigrazione incontrollata, sul recovery plan e come lo vorremmo integrare, su alcune cose strane che sono accadute nella gestione commissariale di Arcuri, insomma, sul contrasto alla pandemia, su alcuni dei principali dossier aperti. Cioè a dire, credo che alla fine Mario Draghi potrebbe scoprire che c'è un partito di opposizione che ha a cuore il destino dell'Italia e che potrebbe rivelarsi a tratti più leale di alcuni partiti di maggioranza. Non fosse altro perché noi proviamo a dare una mano e non chiediamo neanche in cambio di fare i ministri. Senta, ma questa può essere la fine del centrodestra anche in vista di elezioni amministrative che ci saranno a breve? No, questa non è la fine del centrodestra, il centrodestra ha già attraversato fasi complesse come questa e alla fine è sempre rimasto insieme perché noi siamo insieme per scelta. Alle elezioni amministrative andremo insieme, io confido che se gli italiani lo vorranno, quando anche in Italia tornerà la democrazia e il centrodestra governerà insieme questa nazione e credo che sia utile il ruolo che Fratelli d'Italia sta scegliendo di assumere anche in questa fase. Utile come dicevo per la democrazia perché c'è bisogno di un'opposizione, utile per quegli italiani che magari non si riconoscono in questo unanimismo un po' di facciata che vediamo in questi giorni e che la pensano in maniera diversa, che hanno diritto ad avere una rappresentanza parlamentare e utile anche per il centrodestra perché vedi, Fratelli d'Italia da che è nata è sempre stata lì e forse anche per questo esiste ancora un centrodestra perché quando gli altri magari hanno fatto altre esperienze poi c'era qualcuno che presidiava il campo. È una questione di serietà, non è un fatto semplicemente di coerente, certo io parto dal presupposto che chi crede in qualcosa automaticamente debba essere coerente, altrimenti non ci credi, se credi in qualcosa sei naturalmente coerente, ma è un fatto di serietà. Ma perché un no a priori senza neanche vedere la composizione del governo per esempio? Perché non credo che sia giusto dare alcune cose per scontate come il fatto che l'Italia non è una democrazia come tutte le altre, che i cittadini in Italia non possono votare, che non possono fare come in tutti gli altri popoli scegliendo da chi farsi rappresentare e questo purtroppo comporta che indipendentemente da quanto sia autorevole il Presidente del Consiglio ci sia un rischio poi nella capacità, dei governi di dare delle risposte, perché il tema di questa legislatura è che nell'attuale Parlamento è impossibile avere una maggioranza coesa. Ma non crede che essendo molto cresciuta nei sondaggi non debba tener conto non solo dei fan della prima ora, ma anche degli elettori più moderati? Ma guardi, assolutamente sì, ma io parlo ogni giorno a 360 gradi con tantissimi italiani. Quelli che sostenevano Fratelli d'Italia dalla prima ora, quelli che si sono avvicinati a Fratelli d'Italia più di recente, sia a livello di classe dirigente sia a livello di elettorato e tutti mi ringraziano. In qualsiasi sistema democratico c'è bisogno anche di una opposizione, altrimenti non è democrazia, c'è bisogno di qualcuno che all'occorrenza sia abbastanza libero da poter dire che le cose non stanno andando bene. E anche per rispondere a tutta questa gente io ho fatto la scelta che ho fatto. E guardi, credo che nell'Italia di oggi, che è un'Italia nella quale tutti sono acritici rispetto alle cose che accadono, io guardo la stampa, ieri tutti Conte, 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 poi hanno detto guardate c'è Draghi, 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 ci libererà da Conte. Cioè anche voglio dire, no? Ecco un po' delle volte mi sembra di superficialità nella lettura dei fenomeni. Penso che in un'Italia nella quale tutti dicono tutto il contrario di tutto, avere una persona, un partito, una realtà, che sai che non cambiano idea facilmente, che non tradiscono la parola data, io ho detto non vado al governo col Movimento 5 Stelle e col PD, non andrò al governo col Movimento 5 Stelle e il PD, perché mi assumo la responsabilità di quello che dico. Però con un'esperienza, con un governo guidato da Draghi, Salvini non le soffia quella legittimazione internazionale di cui i sovranisti hanno tanto bisogno? Ma guardi, io francamente non ho bisogno di nessuna legittimazione internazionale, atteso che come si sa sono presidente del partito dei conservatori europei, che è una delle più autorevoli famiglie internazionali, è un partito che racchiude a sua volta 44 partiti conservatori occidentali, quindi anche fuori dai confini europei, e sa cosa, nessuno di loro governa con la sinistra. E quindi anche per rispetto e per onorare quell'impegno io non potrei andare a braccetto con Zingaretti. Ma allora perché Salvini secondo lei ha fatto questa scelta? Questo ha chiesto a Salvini, non lo so, ci parleremo sicuramente, però non intendo polemizzare con gli alleati e non lo farò. E se Salvini diventasse ministro? Ma guardi, se Salvini diventasse ministro in questo contesto io potrei essere contenta, però temo che se Salvini diventasse ministro questo significherebbe che avremmo ministro anche Zingaretti, Di Maio, non lo so, Speranza, e quindi ecco lo scenario è un po' più fosco.